Ultimo test amichevole per il Napoli prima dell'inizio del campionato, gli azzurri superano 2-0 l'Apollon-Limasso, l'Alpatidi di Casteldisangro con gol di Osimène e Simeone. Tre più attenzionati ne ho acquisti, Cajus e Nathan, bene il primo, qualche incertezza sul secondo, nessun esperimento per Garcia, Lobotka in regia, Elmas a fare da vice-anguissà e Juan Jesus a fare coppia centrale con Rachmani. 4-3-3 insomma, in avanti la formula attacco sicuro con Raspadori assieme a Kvara e Osimène. Il Georgiano è quello più propositivo, due occasioni nei primi 45 minuti, quella di Osimène e poi quella del Georgiano. Le cose migliori arrivano nelle ripartenze, ma le buone notizie arrivano dal mercato con la telenovela Osimène che va verso la fine. L'agente del giocatore Roberto Calenda e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono stretti la mano con un sorriso. Osimène ha detto di sì al progetto Napoli, avanti insieme fino al 2027, almeno sulla carta. Di sicuro per un altro anno. De Laurentiis è pronto a garantirgli un ingaggio da 10 milioni o più a stagione, incluso tutto, bonus e quota di diritti d'immagine. Superato quindi anche il nodo clausola, che dovrebbe oscillare tra i 140 e i 150 milioni. Adesso deve solo iniziare il campionato.